Light nel senso di leggera, light nel senso di luci, vorremmo non buttare via quello che abbiamo costruito in 5 anni, non saltare un anno nonostante le emergenze, ma fare una cosa in totale sicurezza e nel rispetto di quanto prevede il DPCM. Quindi l'idea è quella di illuminare la città sperando che più gente possibile possa vederla, a retini e non, e il tutto in sicurezza. Sarà un Natale light ad Arezzo, una definizione appunto dal duplice significato. La città del Natale in questo 2020 cambierà così nella forma ma non nella sostanza. Il Comune e la Fondazione Arezzo in Tour hanno infatti deciso di non rinunciare alla magia delle feste, disegnando un percorso di luce nel centro storico. Da qui il nome della sesta edizione della manifestazione che negli anni ha saputo imporsi alla ribalta nazionale. Arezzo Christmas Light. Purtroppo è un mezzo stop per certi aspetti che non ci voleva perché stavamo avendo risultati, lo sapete tutti, ottimi e confidavamo anche in questo Natale. Faremo il possibile per rendere il Natale meno spento, visto che si parla di luci, agli aretini e sperando che non ci siano preclusioni per i turisti. L'evento dovrebbe scattare a fine novembre per poi concludersi il 6 gennaio. Annullate invece a seguito dell'ultimo DPCM i mercatini tirolesi, la casa di Babbo Natale e lo spazio Lego, tutto rinviato al 2021. È anche comprensibile da parte di imprenditori tirolesi questa scelta. Considerate che il tempo sarebbe stato comunque ridotto, le prescrizioni sarebbero state notevoli. Obiettivamente un imprenditore fa una cosa anche per guadagnare, quindi non sono biasimabili da questo punto di vista. In bilico adesso anche la fiera dell'antiquariato e il mercato settimanale del Giotto. Il comune di Arezzo è comunque pronto a far tutto il possibile per salvare la manifestazione. Per quanto riguarda la fiera gli uffici stanno approntando il piano che risponderà ai dettami del DPCM, quindi siamo ottimisti sul fatto che si possa andare avanti. È chiaro che noi stiamo valutando le situazioni giorno per giorno, considerate che è previsto per domenica un nuovo DPCM. Tutto dipende da quello che viene deciso dai piani più alti. Per ora siamo positivi. Il mercato settimanale del Giotto cosa succederà? Si farà questo sabato e cosa succederà anche in futuro? Allora, credo per ora che non ci siano preclusioni. Anche lì i dettami del DPCM, anzi dei DPCM via via susseguiti, sono sempre quelli. Vediamo un attimo quello che succede da qui ai prossimi sabati perché la fiera una volta al mese, il mercato è tutti sabati.